Frusone, Oliaro, Ferrari. Oliaro ha votato, la votazione è chiusa. Presenti 356, votanti 349, astenuti 7, maggioranza 175, favorevoli 113, contrari 236, la Camera respinge. Come mi suggeriscono, sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15 con il seguito dell'esame del disegno di legge in materia di concorrenza. La seduta è sospesa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.